Siamo al segno del Capricorno, per voi questa è una luna che parla invece di rapporti familiari, di tensioni che ci possono essere anche tra le pareti domestiche, soprattutto con il partner. Perché dico questo? Perché già avete una venere molto difficile sotto questo punto di vista, quella che transita in questo momento in cancro. Quindi l'amore, i sentimenti, il matrimonio, le convivenze sono un po' sotto pressione. Voi poi, stranamente, siete alla ricerca di nuove esperienze, di nuovi stimoli con questo Marte in transito nel segno dello Scorpione. Ecco che allora qualcuno di voi potrebbe concedersi delle distrazioni che chiaramente possono procurare dei problemi. Andiamo al segno del Capricorno.